ciao a tutti la svapo fornitura da matteo e bentornati sul nostro canale youtube oggi vi presento un'altra grande grandissima novità prima di casa spire la pucsos la pucsos è venduta in due versioni due varianti il kit con il nuovo nuovissimo cleito pro o in versione solo mod solo big battery in questo caso gli ho montato un atomizzatore da guancia così poi quando andiamo a provare le proviamo sia in versione polmone sia in versione guancia e agli estremi insomma del del vattaggio del funzionamento di questa pucsos oltre al kit e alla sola mod in commercio trovate anche gli sportelli perché la pucsos agli sportellini qua rimovibili ne trovate ben 12 varianti in commercio insomma impossibile non trovare il vostro sportello preferito 12 varianti di cui sei monocromatici oggi più un chilo di roba e altri sei fantasia multicolor insomma dotazione totalmente completa parliamo della nostra pucsos che cos'è è una big battery una moda realizzata interamente materiale plastico alimentata da una 21 700 20 e 700 o 18 650 per utilizzare 18 650 avete bisogno dell'adattatore in gomma questo qui che vi viene fornito all'interno della confezione in questo caso io ho già infilato dentro la mia 18 650 così poi andiamo a provarla anche con 18 6 e 50 la moda è capace di erogare fino a 100 watt se utilizzate la 21 700 fino a 80 watt se utilizzate la 18 650 questa distinzione non è fra virgoletta automatica perché quando andate poi poi vediamo dopo nei dettagli quando andate a cambiare la batteria il circuito vi chiede che batteria avete inserito che batteria andate a utilizzare tante infatti guardate me l'ha appena chiesto andiamo a provare subito subito con in modalità svapo di guancia ottima tipica erogazione di aspire presente morbida rilassata tra l'altro nella versione vari watt vi permette di scegliere fra te tre modalità di erogazione normal soft o hard se invece andiamo a provarla con il nostro pleito pro qui diventa stupefacente 75 watt col da 0,5 ohm montate nel credito pro e la nostra amata pucsos si trasforma in un treno a vapore e credito si trasforma in un treno di aroma perché la resa aromatica la resa in termini di vapore è puro stile aspire altissimo livello tra l'altro credito pro che è interessante per una questione vedete quei tre pallini lì sopra il vetro lì sotto se voi andate a stappare la ghiera trovate l'asola per il refill asola gigantesca voi andate a fare il refill lì in corrispondenza dei tre fori rimettete la ghiera è andata avanti a svappare felici prima vi ho detto che questa pucsos è alimentata da una 21 700 andiamola a confrontare a livello dimensionale con tesla warrior la tesla warrior è alimentata da una 18 6 50 ma è più grande della pucsos che è alimentata da una 21 700 perché perché praticamente tutto lo spazio interno alla box è praticamente occupato da questa 21 700 quindi insomma gestione degli spazi veramente ottimi a livello di fattura questa pucsos è pieno stile aspire nel senso che pure essendo in materiale plastico è leggerissima una volta che voi andate a montare gli sportelli questi non se ne vanno più da nessuna parte i tasti non ballano se voi scuotete la box non sentite nessun scricchiolio e rumorino vario insomma pur essendo una box nella testa di aspire low cost è una box di altissimo livello a livello di fattura di prestazioni e di circuito quindi un device un dispositivo assolutamente consigliato assolutamente promosso d'altronde da aspire non potevo aspettarmi di meno unica pecca che ho trovato ma è proprio un iniziano stupidaggine per estrarre la batteria dovete togliere entrambi gli sportelli e spingerla fuori da qua dietro un laccettino un cinghietto sarebbe stato pressoché perfetto questo è direi tutto su questa pucsos modo o kit per chi si ferma un grazie di averci visto vi ricordo di iscrivervi prima di tutto il canale per rimanere sempre aggiornati sulle migliori navità del mondo dello svapo e di seguire svapo forniture sui social facebook e instagram chi invece vuole restare insieme a noi andiamo a vedere questa pucsos di aspire nei dettagli ecco qua vediamo cosa troviamo nella scatola della nostra pucsos il cavetto usb per la ricarica in manuale di istruzioni l'adattatore per 18650 che trovate all'interno della box e ovviamente la box in questo caso è gli ho lasciato montato il credo pro andiamo a rimuovere l'atomizzatore partiamo subito dai dati tecnici del kit altezza con credo pro montato 124 mm per 48 per 30 quad avanti alimentata da una 21700 20700 18650 con adattatore in gomma capace di erogare fino a 100 watt con la 21700 o 80 watt con la 18650 il credito pro 3 millilitri di capienza 5 clic poi si può flippare lo schermo allora i 5 clic bloccano e sbloccano il dispositivo per spegnere totalmente il dispositivo dovete a questo punto una volta bloccato andare tenete premuto il tasto fire finché non si spegne a questo punto se va a fuoco sul display mi fa anche un favore ok a questo punto 5 clic per accendere il dispositivo per entrare nel menu si fa in questo modo tasto fire e tasto meno insieme insieme poi qui cambiate potete decidere se andare in bypass contro la temperatura e via dicendo per regolare per esempio andiamo in controllo temperatura qui tasto fire andate sulla scelta del materiale titanio ok mettiamoci su acciaio per esempio tasto fire andate in gradi centigradi e potete regolare una volta che siete qui se volete regolare la potenza di spunto clic veloce su entrambi i tasti più e meno ecco qua a questo punto regolate lo spunto confermate di nuovo con una pressione veloce dei due tasti qua sotto andiamo a spostarci ci rimettiamo in vari watt il selettore si sposta vi potete selezionare la modalità soft hard normal e via dicendo una box veramente oserei dire assolutamente intuitiva gli sportelli si levano entrambi in questo modo abbiamo dentro una 21700 andiamo a rimuoverla se inserisco la 18650 che ho qui quindi subito la box appena inserite le batterie vi chiede se state lavorando con la 21700 o con la 18650 si seleziona con i tasti più e meno e si conferma col più in questo caso la box si fermerà qua a 80 watt non se ne andrà oltre vedete se arrivate a 80 watt premete ancora torna a 1 watt questo è presso che tutto ciò che c'è da dire su questa aspire puxos un veramente una signora modo una signora box soprattutto se utilizzata assieme al suo credito però grazie per esservi fermati a vedere anche questa parte ovviamente alla prossima presentazione ciao a tutti ciao a tutti